14 giugno 2023 e buon morire ragazzi e buon morire ora mi lasciate il telefono tic toc tic toc e buon tic toc qui si subito da te che tutto è tutto vedi? vedi? ha detto non scendono che non c'è niente tic toc questo è un posto primitivo questo è sempre un video che ti dedico a giocare a tic toc non scendono a bacio tic toc pure che fanno pochi scifo con me ora ti faccio vedere una cosa questo qua è piccolissimo vedi? lo lasciamo stare questo qua l'ho buttato con il piede per l'aria per l'aria vedi? tic toc qui ci sta un bombolino alla tic toc vedi? le ce n'è le ce n'è vedi? vedi che bombolotto? le ce n'è 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 14 giugno 2023 ci vanno ticca tocca ma ci vanno fuci a andare guarda una poca chi lo ticca tocca che mi stai combinando guarda una poca chi lo ticca tocca che mi stai combinando guarda una poca che bello ticca tocco che ce n'è eccoci che spettacolo ci vanno fu niente che a coca funga fanno pochi schicchi ma i da ce fa verà e che tu hai detto non scendere e vedi ticca tocco ci sta pure un ticca tocco eh vedi come hai detto non è scendere comunque è bianco oggi tutto fa broro ticca tocco che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che bomba che bomba ragazzi che bomba